In segno di penitenza si salgono in ginocchio pregando i 28 gradini del santuario della scala santa, gli stessi che calcò Gesù quando in catene fu condotto da Pilato. In cima sta la cappella papale custode della sacra icona del Santissimo Salvatore. Come un gioiello nel 1586 l'architetto Domenico Fontana incastonò questo luogo tra due cappelle simmetriche dedicate a due santi della Chiesa Romana dei primi secoli. A San Lorenzo fu intitolata quella affrescata da Cesare Nebbia e dalla sua squadra di lavoranti e capomastri. Oggi i suoi colori sono tornati allo splendore originario grazie ad un restauro ultimato recentemente che ha visto i musei vaticani impegnati in prima linea come organo competente per la direzione scientifica dei lavori. Dissesti di alcune porzioni della superficie affrescata, di stacchi della pellicola pittorica, strati aggiuntivi da rimuovere dovuti a ridipinture e antichi restauri. Tante le indagini e le ricerche preliminari da compiere prima di intervenire direttamente sul colore. Con noi Arnold Nesserlat, delegato per l'area tecnico-scientifica dei musei vaticani. Qui c'era molta necessità di fare la conversione del bianco per avere di nuovo la gamma dei colori originali e questo con l'aiuto anche del nostro laboratorio di scienze e di chimica siamo riusciti a sviluppare dei metodi o applicare dei metodi che abbiamo anche usato in altre circostanze per tornare qui il più possibile ai colori come forse si vedevano al tempo di Sisto V. Un intervento complesso, quello compiuto sugli affreschi della Cappella di San Lorenzo. Alla tecnologia laser sono stati affiancati i metodi più tradizionali. Lo studio minuzioso delle superfici ha mostrato ai ricercatori l'antica impronta dei cartoni preparatori delle diverse sezioni di cui si compone questo ciclo pittorico, rivelando così la scansione temporale dei lavori sotto la direzione di Cesare Nebbia e di Giovanni Guerra. Una mole di dati preziosi come ci spiega Paolo Violini, responsabile del cantiere di restauro, per comprendere a pieno l'ideazione e la costruzione dell'intero santuario voluto da Papa Sisto V appena salito al Soglio Pontificio. Tutto questo ciclo di affreschi, grande ciclo di affreschi sistini che si sviluppano intorno al Santa Santorum, in quegli ambienti che furono costruiti alla fine del Cinquecento dall'architetto Domenico Fontana, sono stati oggetto di un'indagine preliminare, di una campagna di indagini preliminari che ha compreso documentazioni fotografiche a luce ultraviolette, a luce normale, a luce radente, infrarosso, analisi, prelievi e sezioni di colore per analizzare problematiche specifiche. Quindi tutto questo grande database di materiale preliminare ha fornito la base iniziale da cui siamo partiti e le indagini preliminari in questo lotto specifico sono andate a integrare quelle conoscenze che ancora potevano mancare a questo quadro generale. Quindi siamo andati ad indagare nel particolare alcune situazioni specifiche, tipo dei ritocchi alterati a BH o altre situazioni che andavamo ad incontrare volta per volta.